Buon pomeriggio, per Notizia d'Abruzzo siamo in compagnia di Gaetano Basti. Sabato 27 maggio alle ore 18, l'Auditorium Petruzzi, lei con alcuni protagonisti di questa nuova iniziativa editoriale, presenterà questo volume, Attimi d'Abruzzo. Ce ne può parlare? Dunque, questo libro nasce dall'esigenza di riconoscere il lavoro professionale di Mauro Vitale e Vinicio Salerni. Mauro Vitale è stato per molti anni responsabile fotografico della soprintendenza, mentre Vinicio Salerni è un pilota di drone. Un pilota di drone è anche formatore e espertissimo in tutte le forme di drone, dai più piccoli ai più grandi. E quindi alla fine viene fuori, proprio grazie a molte foto fatte con il drone, punti di vista molto insoliti della nostra regione, che però conserva sempre questo mistero, questo appeal, perché la nostra è una regione particolare che si può dividere in tre grosse strisce, la costa, la collina e la montagna. E questo libro rispetta proprio questa sequenza ed è un libro prevalentemente sul paesaggio e sui borghi montane. Il paesaggio perché? Perché anche il paesaggio, l'Abruzzo ha tanto da dire, perché passa dagli altopiani carsici e aquilani alle colline, alle colline, al mare, ed è sicuramente una delle regioni dove c'è più prossimità fra mare e montagna. Il libro verrà presentato al Petruzzi, vicino al Museo delle Gentili d'Abruzzo, e saranno i relatori e gli autori dei testi, oltre ovviamente ai fotografi Mauro Vitale e Vinicio Salerni. Una particolarità della pubblicazione sono le foto, sia colori che in bianco e nero, ossia che testimoniano anche la ricchezza del nostro patrimonio architettonico, storico e culturale. L'edizione Menabò ha questo progetto di divulgazione? Ma certo, noi partiamo con un preciso progetto editoriale. Se lei ricorda bene, da Abruzzo ha come sottotitolo turismo, cultura e ambiente, proprio perché sono tre settori strettamente connessi tra di loro e che si autoalimentano e che costituiscono un unicum per cui la regione viene vista da questo punto di vista in maniera, diciamo, nuova perché ci sono delle angolazioni veramente particolari che è riuscita a fotografare e poi c'è anche il discorso dei testi, i testi sono Dante Marianacci, d'Alessandro, insomma sono Antonio De Frenza, insomma sono molte firme importanti, per cui è un libro essenzialmente fotografico, però anche con dei contenuti e dei punti di vista insoliti. D'altra parte l'abbiamo nominato Attimi d'Abruzzo, proprio perché deve essere un libro emozionale, un libro, diciamo, che dà dei sentimenti anche, perché poi diciamo che ecco, lo spirito bisogna nutrire e noi spesso ci soffermiamo sul corpo e poco sullo spirito, mentre invece bisogna nutrire lo spirito e questo libro è un elemento che dimostra come insomma sia interessante curare anche lo spirito e non solo il corpo.